Re-Life Children's Tech Project Ma perché ve lo devo proporre proprio io? La verità credo che i bambini non siano solo il nostro futuro ma la nostra ragione di vita Anche per questo da anni insieme a numerosi amici, chef, produttori artigiani e chi più ne ha più ne metta abbiamo aiutato la Onlus di Santo Bono in un sacco di bei progetti Festa Vigo è sicuramente il progetto più bello e più grande lo facciamo anche da 13 anni ma non mancheranno altre sorprese, ve lo assicuro Se oggi Santo Bono vanta uno dei reparti di terapia intensiva e patologia neonatale più avanzati d'Italia è grazie soprattutto all'affetto di tutti i sostenitori che ci hanno permesso di raccogliere centinaia di migliaia di euro per l'acquisto del meglio ma è proprio questo meglio che non solo fa la differenza tra la vita e la morte ma migliora la qualità della vita del bambino dopo l'intervento Ecco perché è vitale sostenere Re-Life perché il progetto è già partito e aspetta solo noi per il suo completamento Realizziamo insieme il nuovo reparto di rianimazione del Santo Bono È una cosa buona e io di cose buone me ne intendo